Siamo arrivati ragazzi al ristoro del mucciante, eccoci, adesso facciamo due fotine di rito e poi se va a mangiare Grande zio! The sound of love! Ah, colazioncina appena fatta, cornetto e caffè, giusto amore, tu hai preso? Cornetto e caffè per Ilaria, succo e cornetto per me, siamo usciti dal bar due goccettine, bello, un magnolino Due goccettine di quelle che ti fanno tanti mostringere le ciappette però, due goccette proprio così, giusto per... Non dovrebbe piovere, vero? Vero? Ma dove cazzo mi fa passare questo, porco due, mi puoi giù? Invece di passare? Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che strada, che strada! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, pure il semaforo verde è grande. Beh, dai, se sta bene, io sto a freschetto. Eh, ma guarda che è pura la moto che scalla tanto, eh. Eh, sì. Perché io sulle gambe sto caldo, sul petto che ho il giacchetto leggermente aperto sto freschetto. Sono no, sono un piclima. È morto qualcuno sulla mia visiera. Sì, dicevo, è morto qualcuno sulla mia visiera. Guarda. Eh, ha fatto... Vedi che ci stanno tutte pigne pure qua, no? Ai bordi, soprattutto a volte, beh, guarda questa sta in mezzo. Guarda questa qua davanti in curva proprio, guarda, eccola. Guarda. Quindi queste sono pericolose. quindi è meglio andare piano qua poi stai all'ombra ti godi un attimo il panorama siamo in provincia di L'Aquila si sente già nell'aria l'odore di arrosticino che ti pervate anche le ossa le ossa e l'anima dai che monna va a mangiarci e arrosticini guarda questa c'è la zampa che gli fa male poverina qui si sente già Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 No.